Eeeh salve a tutti ragazzi qui è il vostro amico Infinite 2.0 e oggi insieme a fare una reazione tra Sa Sanji e Nico Robin Salutate, ciao, ciao Bene come vi chiamate? Sanji, Robin, qualsiasi ne avete? 18 anni, 18 anni Nico Robin, la tua infatti è stata brutta o bella? Ottissima, perché mia madre mi ha perdonata, però ho gli amici e ho gli amici molto speciali Avete una fidanzata oppure siete single? Io so con Nami e Nico Robin perché mi fido molto di loro e mi come la più bella di tutte Ti ringrazio, ti ringrazio Sanji, molto gentile Eeeh no, ma sono con Zoro, non so che Sanji è o Zoro, non so Beh, ti ringrazio Zoro Nooo Certo anche tu, sa Sanji Allora qual è il vostro più bello? Tè, qualsiasi tè, qualsiasi, quello che ha messo è tè Cosa? Ehm, panini Ehm, caffè Quindi vuoi uscire con me, Nico Robin? Certo, quando finisce il video Vi gioco qua Cioè, in certo senso Avete mai baciato un ragazzo? O una ragazza? Ehm, io sì Ma c'è un Nami e Nico Robin Ehm, sì Zoro e Sanji Qual è il vostro Qual è il vostro potere? Qual è il vostro Qual è il vostro potere? Ah, dannazione, scusatemi Qual è il vostro potere? Per avere poteri matrici Io sono frutto Io ho mangiato il frutto fiofio I miei poteri sono fatti di fiori Tarnflush Wow Allora Come avete Come, come 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 Ma perché avete questi capelli? Beh Ehm, non lo so Siamo pirati Non lo so Nico Robin Perché si è cambiato la pelle Quando è passato i due anni con Ruppi Che cavolo ne so E che cavolo ne so Cioè, cavolo I termini Robi Termini Nei video Allora Sanji Scusate che dico sopra Noi San Sanji Sanji Ehm, qual è il tuo migliore amico? Rad Ma perché tu cucini tutti i tuoi amici? Beh, sono un cuoco Un cuoco grande per cucinare La mia nami Sua E Nico Robin Ehm, per essere un perfettito Ehm, è un bravo ragazzo Già, un bravo ragazzo Ehm, avete mai Siete stati mai confitti o umiliati? Sì Sì Umiliati Sono stato umiliato Sono stato umiliato ovviamente Ah, umiliato Beh, anch'io sono stato umiliata Non è così facile, eh? Avete Qual è il vostro Sogno Qual è il vostro sogno Qual è il vostro sogno Di realizzare Il mio sogno è diventare Un cuoco Più 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 bravo del mondo E' essere un perfettito Del mondo Io 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 E se voi i contratti Goku, per fare la fusione, cosa chiedete? Mi chiamerei da Robin. Perfetto che acquistisce qui e ci da un po' più video. Bella! Ciao! Ciao!